sto usando il biberon lovi e questa è la prima volta che ci do il biberon che emozione vediamo se lo prende amore guarda cosa c'è il lettuccio subito che buon gustaio che buon gustaio che sei ti piace mangiare subito proprio non ho rifiutato per niente e va bene dai noi continuiamo con il nostro lattuccio buona serata ciao